Cari amici e passionati di tecnologia bentornati in questo nuovo video, io sono Toffo e oggi siamo finalmente tornati con un nuovo video ragazzi Come sapete io non faccio video su questo canale da ormai quasi 8 mesi, a parte qualche piccola eccezione Avevo detto che avevo intenzione di ricominciare un po' a fare video su questo canale, ho cambiato tutta la camera Voi non l'avete ancora vista completa perché l'ho cambiata a maggio quando avevo già chiuso il canale da un bel po' di mesi, da circa 5 mesi E quindi perché oggi in questo video non farvela vedere nuova, anche perché ho di nuovo rifatto la scrivania da capo Sì ragazzi è cambiato praticamente tutto, non c'è più nulla di uguale rispetto a prima, a parte questa parte qua Allora da dove partiamo? Partiamo da questa zona qui, come potete vedere qua c'è il letto che vi sembrerà un po' stropicciato eccetera Ma vi assicuro che sto copriletto si stropiccia con nulla, quindi è normale vederlo così Passiamo a questa parte qua, lasciate stare questo che andrà tolto, però qua è la zona più o meno collezionistica Qui ci ho messo tutte le scatole della Apple, più 3 saponi, questi 3 saponi qui erano in un albergo in cui sono andato quest'estate Sono stupendi Poi c'è sto coso di Jurassic World che ho trovato per terra vicino al McDonald's, l'ho lavato, l'ho messo qui Un elicottero E questo è il braccialetto di Favij che ho trovato nel luogo di Pasqua, sì non fate domande Dopodiché qua sotto scatole degli iPad Qui altro coso del McDonald's, sta volta Bowser, Charlie Brown Un altro elicottero, Saetta McQueen E il mio fidget spinner, il primissimo del mio primissimo video sul fidget spinner Ecco qua la mia collezione di iPhone, solo gli iPhone ho messo qua Vi risparmio la parte dei libri di scuola che è la più disordinata Qui c'è una foto di me da piccolo, un gufo che è un po' storto Questo è un sasso della chiesa di San John all'Opud Island Se non sapete da dove viene vi invito a recuperare questo video qua Poi qua lasciate stare che ci ho messo il diploma dell'asilo ma perché non ho altri attestati da mostrare per ora Si vedrà poi alla maturità ovviamente In realtà avrei anche una certificazione d'inglese, di un test d'inglese vabbè Che però è il vetro rotto e dobbiamo ripararlo da otto anni Penso che non lo faremo mai quindi ci ho messo questo che tanto nessuno va a leggere Poi qui ci ho messo le scatole Cioè in queste scatole c'è un po' di tutto Qua un po' di roba vecchia, qua un po' di roba a caso E andiamo direttamente qua sopra Qua sopra ci sono i miei Lego, li vedete tutti Qui ci ho messo tutti i pupazzi di Angry Birds Più il cammello arabo e ciccio Qui sono un po' storti ma poi li riordinerò tutti Sì esatto Tre pupazzi a caso e qui tutti i Minion più i libri Qui ho queste cuffie che non uso mai per il microfono che fa cari Sto stand qui è fighissimo Vorrei farlo illuminare ma devo trovare il modo Poi una lampara, dei pendarelli Qui ci ho messo tutti i giochi della Play Più un po' di giochi del 3DS che ho recuperato in giro Non sono tutti quelli che ho però sono quelli che ho trovato diciamo Ma ora passiamo alla scrivania ragazzi Ragazzi eccomi qua a dover rifare la parte della postazione perché mi sono spiegato da cani ovviamente Vabbè partiamo da qui Allora qui c'è Alexa Ecco sapevo Ce l'ho da un annetto circa Ha sempre funzionato bene Ed è l'Echo Show questo Qui c'è un caricatore molto particolare che mi hanno regalato Qui si può caricare l'iPhone Qua l'Apple Watch E poi qua sotto sarebbe concepito per le Airpods Però io tipo se tolgo le Airpods E ci metto sto Samsung qui Poi arriverà un video pure su questo Si carica senza problemi Ma usiamolo per quello per cui è stato concepito Poi allora vedete che qua stavo editando il video Questa roba qui dovrò un po' sistemarla Allora qui c'è un po' di roba a caso Qui ci sono i joystick della Play Le custode degli occhiali La custode della macchina fotografica Ma non parliamo di queste cose qui Parliamo di questo Perché questo è il pezzo forte Allora abbiamo il monitor Mouse e tastiera Che sono gli stessi invariati Sono le uniche cose che non cambiano Ha il monitor come al solito È collegata la mia Play Che non so Sta implorando pietà Perché non riesce più a vivere Però finché funziona la uso Sempre per il diciottesimo Mi hanno regalato questo impianto stereo Con due casse E il subwoofer lì sotto Che è storto Oddio devo raddrizzarlo In questo periodo lo sto usando molto di più Prima non lo usavo tantissimo Per il fatto che era collegato al computer Windows Infatti il computer Windows L'ho tolto completamente L'ho messo qua dentro E non penso di usarlo più Perché funziona troppo male Mi dispiace Quindi ho preferito rimuoverlo completamente dalla postazione E usare solo il Mac Parlando del Mac Vi ricordate che nell'ultimo video della postazione Che ho fatto su questo canale Avevo un MacBook Air del 2017 Che aveva un 5 e 8 giga di RAM mi pare Questo è quello del 2020 con l'M1 E questo ragazzi con l'M1 è una bestia Addirittura sto per dire un'eresia pazzesca Ma questo è una bestia pure per giocare Appena mi è arrivato ho provato ad installarci Fortnite A farci una partita E con delle impostazioni grafiche non altissime Ma decenti Faccio più di 100 fps Che non è per nulla Per nulla male Vabbè tramite questo cavetto qui L'ho collegato al monitor E infatti adesso Tipo io se prendo Final Cut E lo porto di qui Posso tranquillamente fare il doppio monitor Posso riportarlo di qui Posso fare quello che voglio Posso portarlo di qua Scaricare il video di qua Mentre il video di qua E' una roba che ci sta Poi qui ci ho collegato mouse e tastiera Ovviamente E il caricatore per caricarlo Perché se no se lo chiudo così Per lavorare solo sul monitor Non posso usarlo Lo schermo si spegnerà Se non è attaccato al caricatore Niente Poi là dietro c'è il cavo della Game Capture Si intravede Siccome sono impegnato con la scuola Sto riuscendo ad andare in live poco E quelle poche volte che vado in live Stacco e attacco il cavo E' un po' scomodo Si lo so Però va così ragazzi E a parte tutti gli scherzi Questo setup è abbastanza ordinato E mi ci sta trovando anche molto bene Se vi posso dire la verità E niente raga Questa era la mia nuova postazione Che non avrete ancora visto Quindi niente Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E niente Vi saluto